Il modo di giocare della Roma sinceramente sì, mi aspettavo questo modo qua. Dopo ogni partita ha un po' la sua storia, con tutto il rispetto alla Roma, anche perché sta facendo molto bene, ha una striscia di risultati importantissimi. Credo che siamo riusciti a fare una grandissima prestazione, credo che a parte i dieci minuti iniziali siamo stati molto lucidi, molto dentro la partita, anche a livello fisico, anche nella costruzione del gioco e anche nell'occasione che abbiamo costruito. Credo che abbiamo anche messo in difficoltà la Roma sicuramente in tanti momenti. Purtroppo non siamo riusciti a fare gol, è vero che un po' di Amarino in bocca rimane. Però comunque stiamo parlando di una grandissima squadra che giocavamo anche a casa loro. No, io credo che noi andiamo avanti sulla nostra stessa linea. Se pensiamo al risultato è normale che guardando un po' la partita così sogneresti con qualcosa di più rispetto a un pareggio. Guardando il gioco credo che ci dà tantissime certezze, ci dà tantissimo stimolo per andare avanti. Mancano 11 partite, credo che manca ancora tantissimo. Però andiamo avanti sulla nostra strada, partita dopo partita. Io da quando l'abito ho fischiato la fine della partita contro il Manchester San Siro ci è venuto qualcosa di diverso. Io ci credo davvero. Non è che devo dire perché devo stimolare la gente a crederci. Però io ci credo davvero perché se andiamo a vedere la partita contro il Manchester e tutte le partite che abbiamo fatto dopo il Manchester credo che la squadra si è comportata non bene, di più. La squadra ha prodotto sempre un gioco molto competitivo e di costruire tantissime occasioni da gol. Io credo che andiamo a Manchester con grande ottimismo. Grande ottimismo. Dopo credo che a prescindere da moduli, a prescindere da quello che è una proposta per questa partita, quello che cambierà sicuramente è l'atteggiamento della squadra. E di personalità, e di credenze, e di stimoli, credo che questa squadra oggi ne ha parecchio. Credo che il calcio ci sta dando un'opportunità straordinaria. Se riusciamo a fare una rimonta, credo che sarà una cosa eterna. Io credo che la prossima partita è sempre la più importante, a prescindere da quella dove ci porterà. Io sono ottimista sempre. Per quello credo che la squadra giocando così, io credo che possiamo pensare a qualsiasi cosa. Non credo neanche sia facile per una squadra che deve gestire un risultato, diciamo, di vantaggio. Credo che un gioco psicologico non è semplice. Per quello io sono molto ottimista. Non lo so se dopo dove saremo, in quale posto saremo, alla fine della Champions o alla fine del campionato. Però sicuramente è un gioco ottimo.